Sono dichiarazioni molto forti, quelle rilasciate dal candidato sindaco di Forza Nuova Massimo Nigro alla trasmissione di Radio 24, la zanzara andata in onda ieri sera. Contattato telefonicamente per l'attenzione che in questi giorni il movimento di estrema destra sta ricevendo per la manifestazione nazionale che si terrà a Prato sabato prossimo, Nigro ha risposto alle domande su Mussolini. Mussolini è nel cuore della gente. Cioè, secondo me è stato un grande statista? Secondo me dobbiamo prendere degli esempi da lui, certo? Sì, tipo? Sì, ma ha fatto tutte le bonifiche. Poi? Ma sicuramente ha fatto tanto anche per i lavoratori dipendenti. Sugli omosessuali che si baciano in pubblico? A me da partito il gay pride, perché sono quelle feste carnevalesche dove se uno passa con un bambino piccolino e vede tutti questi scimpanze, tutti nudi, a baciarsi e travestiti da carnevale. Mentre sulla svastica? No, no, io dico che il resto è indifferente, perché è una cosa che ci insegnano anche a scuola. A me dà più fastidio quando si ammazzano le ragazze modello Desiree.